Questa settimana è andato molto molto bene, sono molto contento di come è andato questa prima settimana qua a Parma e mi sento molto benvenuto. Ho trovato un bellissimo gruppo, tutti ci parlano insieme, però quello che parlo di più è con Edoardo Corvi che è un molto bravo mister ma anche una bravissima persona che si vede subito. Io lo ascolto tutti i giorni per imparare, vediamo cosa possiamo fare insieme. Io sempre quando scendo in campo provo a vincere, quindi non cambia niente questo anno, io sempre voglio vincere e voglio vincere tutte le partite anche quest'anno. Dejan o Dejan? Dejan, mi chiamo Dejan.